Oh, vedi che cosa bella? Odio bineurale in tempo reale E allora? Siamo pronti a cacarci sotto? Eh? Ci vogliamo cacarci sotto? E comunque, buonasera Brody, ben trovata Mmm Allora Quanti minuti sono passati da quando ho iniziato? Credo abbastanza da farmi sentire in qualsiasi modo Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Comunque, un fatto che già mi interessa abbastanza È che vedo Lingua delle Voci Italiano Quindi l'hanno doppiato pure questo titolo Lo doppieranno, ufficialmente Vediamo Vale, ma io ho visto un altro tizio con il tuo stesso nome E un clone a... Xanxus Qua su Twitch Ci siamo Buonasera anche comunque a Xanxus e Berserk Ben trovati Ti chiedo una cosa però Vale, dimmi Brody Dimmi Mentre gusto la mia buona tisana Che poi c'è anche... c'è anche sulla cosina qua Il fico e la mela Very nice Very very nice Sono anche curioso di sapere Chissà chi è che doppia Leon Perché mi pare che nella versione inglese non è sempre quello di Resident Evil 6 È diverso Perché deve essere più giovane e deve avere una voce più giovane Comunque Mo che te lo stai giocando Valuta bene Fa sapere se lo porteresti in live in maniera integrale Sia Leon che Claire Ah è vero che nel Resident Evil 2 originale potevi usare anche Claire È vero Io non avendolo mai giocato è un po' così Ora mi ricordo per chi amo giocare acqua Ecco Bravo Xanxus Non vale ma tu devi fare il 4 Perché Se pensi sia interessante e ti diverte te lo prendo Vedremo Brody vedremo È molto inquietante secondo me Da quel poco che ho visto di gameplay nel tempo Perché è molto buio È buiissimo Dopo la spensi ratezza di Tales of Vesperia Ora prepariamoci a cambiare le mutande Ecco Bravo Bear che entra nello spirito di Resident Evil Così possiamo spammare Leon Help Ah ecco perché Ma guarda secondo me Xanxus Resident Evil 4 è uno di quei titoli che prima o poi lo mettono gratuito sul PSN Col plus di qualche mese Sicuro Perché è tipo un classico ormai Poi sono sempre quei titoli che costano veramente poco arrivato a un certo punto della loro vita Quelli che mettono sul PSN Altri sono sconosciuti tipo il mese di gennaio ci sono due titoli che E che sono? Boh mai sentiti Audio bineurale? Sì non ho idea di cosa sia ma c'è Attiva o disattiva la funzione che riproduce l'audio 3D E qual è la terza dimensione dell'audio? Non si sa Comunque Direi che possiamo provare Attivalo E' già attivato Cioè sì Ok E allora E allora proviamoci Proviamo in italiano Che poi è one shot Ma vuol dire che lo posso provare una volta sola Oppure Cioè perché one shot mi fa intendere Mi fa immaginare questo Che è una volta sola che lo puoi provare Ma è una puttanata se vogliamo Comunque Praticamente senti Nelle cuffie o a destra o a sinistra In basso dove spuntano i mostri Eh questo è molto utile Bloody grazie L'unico decente è Zone of the Enders Su PS3 Ecco Tanto per cambiare Va bene Va bene Va bene Vediamo il primo giorno di lavoro di Leon Come andrà Eh? Che paura Cominciamo molto male Regola l'università finché il motivo sia appena visibile Ah è una scacchiera Eh però per YouTube Ammesso che io voglia Mettersi così appena visibile anche per me in realtà Dovrebbe essere abbastanza buono È sempre un po' più luminoso È sempre un po' più luminoso Perché su YouTube Tende ad andare veramente da schifo L'ambiente Molto molto buio Molto molto buio E nonostante tutto è bellissimo Questo gioco è stato un incubo per me È uno dei miei traumi da bambina Ma un po' mi hanno detto che Che avevano proprio gli incubi Con i suoni di Resident Evil Non mi ricordo se era l'1 o il 2 Probabilmente l'1 perché era il primo della saga Quindi è quello che ha avuto un impatto enorme sul pubblico Il 2 è stato com'è il continuo Il diretto seguito Io avevo paura degli zombie vale Il rumore degli zombie è un incubo Ah ok Eh vediamo Vediamo se hanno riutilizzato quello O l'hanno fatto remaster Regola l'amministratore finché il motivo sia appena Ancora Io lo lascerei in mezzo ragazzi Anche se non è appena visibile il motivo Per me appena visibile sarebbe Qua Però sono abbastanza sicuro Che su YouTube si vedrà di merda Quindi Andiamo per questo Perdonatemi Regola l'amministratore finché l'immagine sulla sinistra Sia appena visibile E qual è? C'è un'immagine? Ah E vabbè allora ditelo Connessione a ReNet Un servizio che tiene traccia dei tuoi dati Nella serie residentivoli Dati Ok Questo non era un effetto del gioco Era mio Io non vedo una ceppa Eh spero Spero che si veda invece vlog Vale non hai capito E questa è la demo Devi regolare la luminosità Ah che bello Beh è una bella demo devo dire Connessione a Mele Renetta Buonasera Yamamura Ben trovata Appena in tempo Facciamo un brindisi cordiale Prima della nostra Imminente fine Allora Allora Vediamo un po' Io voglio vedere come Com'è In italiano Voglio vedere come In Ita Vabbè Ma anche meno inquietante Mi andava bene Cioè non c'è bisogno Gioca la campagna principale E sopravvivi all'incubo Ah vedete In alto a destra Abbiamo un timer Quindi A 30 minuti Se noi non riusciamo A finire tutto Finisce comunque Non so bene Come funziona Non è partito Il Resident Evil 2 Oh eccomi Buonasera Jack Ben trovato Appena in tempo Anche lei Allora Io vorrei Rissuale di gioco Scher L'audio Eccoci Io vorrei Così dovreste sentirmi Abbastanza bene Perché ho paura Che la musica Sia tra po' Sì non è partito Resident Evil 2 Ok Dovremmo esserci Tutto in Ita Ok Maledetto internet Devo usare il 4G Dai Bear Dai Bear Scusami Jack Avevo visto l'ultimo commento Di Bear Mi sono confuso Vediamo com'è La versione finale del gioco Potrà essere differente Da questa demo Questa demo terminerà Dopo aver giocato Per 30 minuti Questa demo Può essere giocata Solo se connessi A internet Ah vedi Quindi devi per forza Avere il PSN Plus Bella magagna Per Leon S. Non so fare A separarsene A causa di un incidente Dopo aver evitato Innumerevoli pericoli Leon riesce a raggiungere La centrale di polizia Di Raccoon City Potrà ora considerarsi Al sicuro Grazie per il buon viaggio Salve Cammina Ok Ehi la Non c'è nessuno? E lui E lui E lui E il doppiatore che ha fatto Leon in Resident Evil 6 Mi pare Cosa è questo? Allora abbiamo giustamente Una pistola Che si chiama Matilda Perché Perché sì E qualche proiettile Oh Ok Spero che si veda Decentemente E il doppiatore di Desmond Sì Sanx è lui E anche il doppiatore di Di Sasuke Di Naruto Ha fatto Ha fatto diverse cose Nel tempo Leon in Resident Evil 6 Ha fatto diverse robe Ah ok Gli altri proiettili Li possiamo combinare Con quelli che avevamo già Raga OST Sono le stesse Rifatte meglio? Ah Vedi Eh Sono sempre quelli I doppiatori Ma guarda quanto diverso In faccia Leon È molto diverso Apri la mappa Oltre che mostrare La tua posizione attuale E le varie aree di gioco La mappa ti mostra Anche tutti gli oggetti Che hai trovato Ma non hai raccolto E gli elementi Con cui hai interagito Ah Ok Quindi nel nostro caso Ci dice Che qua c'è una cassa oggetti Qua c'è una macchina Da scrivere Quindi è come si salvava Nei primi Resident Evil È giovanissimo qui Regà Un po' più definito È g-g-giovane Yugi che fai Evoca mago nero Ah è vero È quel doppiatore Lo stesso che ha doppiato Yugi Rock Lee E diversi altri Anche I doppiatori ormai Sono quelli Ok Qua bisogna inserire Dei dischi Allora io ve lo dico Abbiamo mezz'ora Guarda che bello Leon Poi non so perché In questi ultimi titoli Che stanno facendo Fanno molto spesso I difetti Del volto Cioè I nei Le cicatrici Queste cose Le imperfezioni Non i difetti Le imperfezioni È una cosa che ho notato Da quando ho giocato A Dragon Age Inquisition E anche a The Witcher Cioè Fino Fino a qualche tempo fa I modelli dei personaggi Erano sempre Bellissimi Fantastici Non avevano Un cappello fuori posto Mentre adesso Stanno iniziando a fare Le cose un po' più Realistiche Credo Anche la visuale A tre quarti di spalla Come Resident Evil 4 È un po' scomoda Qua ti dà un po' più Ambiente Diciamo Ma tu dimmi Quale centrale di polizia Ha i dischi su una statua Come dice Jack Carroxanxus Tutte E mi sa che qua Non dovremmo andare Ah ok Così simile Buona sapersi Ok Ops Quello è sangue Quello è sangue Vediamo sulla mappa Vediamo sulla mappa Ah vedi Ci illumina di giallo Dove dovremmo andare Quindi alla guardiola Molto Molto Bene Che è successo Praticamente qua Leon si è da poco Diplomato alla scuola Di polizia E la miseria Primo giorno di lavoro Da sballo Leon Un bambino prodigio Eh sì Lui sì Scuola Di polizia Quanto buio Che paura Ah ok Questo è come Snake Di Metal Gear 3 Knife Gun Knife gun Va bene E' un po' fastidioso Il fatto che Dove ti muovi Lui punta con la torcia Che non puoi muoverti E puntare da un'altra parte Ops Sembra quasi il tizio Di The Quiet Man Che non ho visto Tra l'altro The Quiet Man Anche se ne ho sentito parlare Buongiollo C'è nessuno Cos'è stato? Ok mi sa che c'è qualcuno Al piano di sopra Comunque vi stavo dicendo ragazzi Prima che mi interrompessi Nel vedere le mille mila cose E' molto probabile Che questa Prima mezz'ora Ce la facciamo così A cazzeggiare Allegramente E magari Proverò Dal secondo tentativo In poi A farla Un po' meglio Sentito parlare Bene o male Vediamo Non mi ricordo Ne ho sentito parlare Ma non mi ricordo Se è bene o male Xansus Qua c'è Eeeh Mi sa che qua È successo qualcosa Quanta monnezza Troppa monnezza I giochi oro Sono così La prima volta Ti cachi sotto Dopo Rushi E te ne sbatti di tutto E' come il primo Resident Evil Che giocai al tempo Che è il 4 Xansus Qua non c'è Nulla Oh no Mi attaccherai Vero? Lo so che lo farai Ah Grazie I proiettili Fanno sempre comodo Oh qua c'è un Ok Oh molto meglio Grazie Leon Che sei capace Di usare I pulsanti Dell'energia elettrica Però Resident Evil 4 Non ti caghi sotto Davvero Insomma Yamamura Io un po' Mi caccai sotto La prima volta Ti incavoli e basta E ridi a quello Che dicono nel villaggio Mierda Matalo Oh Ah ok Qua c'è un hydrant C'è una manichetta Una lancia Uni 70 Anche di più Può essere Che ce ne vogliono Minimo due persone Per trattenerla Talmente forte La pressione Cristo Cristo è risorto Veramente Alleluia Ma quanti morti qua? Posso provare a No La catena è Indistruttibile Un forestiero Che cos'è Sto suono Ah è qua Vieni Yugi Come hanno fatto Strappargli tutto Dalla vita in giù Dove in poi Stai attento Vale Molto attento Suggerisce Ebloody E io ho paura Tacquino della gente Ah Quella è la statua Assegnato Tre medaglioni Giustamente Molto intelligente L'amico Tre medaglioni Quindi poi Sotto la statua C'è Un Una porta C'è un passaggio Che conduce A un percorso Sotterraneo Al parcheggio E dal parcheggio Te ne puoi Annà Vale ti posso dare un consiglio In questi casi Non farti domande Eh no Sansu Sì io me le faccio E come Poi in basso a destra C'è Cos'è Un cavallo Che tiene della roba E altri tre segni E Non ho idea Non era un agente Di polizia Era un Uno scribacchino Questo Gira pagina Eh sì ma Corona Leone Pecora Suonatrice Uccellino E cavallo Che cos'è Rip Rip Oh 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 Salve Madonna mia Corri Corri Leon Non so dove Andando Il che non è un bene Eh Cristo Eh Corri Oh no Au Au Uh Ouch Corri 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 Dove si va Oh 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 di qua Credo L'uscita L'uscita Sono abbastanza veloci Non sembra Eh Uh Fatality Come un melone Proprio Grazie Sei al sicuro Per ora Grazie Marvin Brana Leon Kennedy C'era un altro Gente Io Non Ah c'è anche il sangue Dove l'hanno colpito Peccato che ce l'ha sopra La torcia Da una parte Sono certo che hai fatto del tuo meglio Sì Hai fatto del tuo meglio Sono andati in mezzo a due Praticamente Non ne ho idea Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana ma hanno rimandato Se fossi arrivato prima Saresti morto Il resto non conta Ok Forse potrai uscire vivo dalla centrale La gente che hai incontrato Elliot Credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto Eh da quello sotto la statue Ma è perfetto La porterò all'ospedale No Io non sono una priorità ora Tenente Io non la lascerò Questo è un ordine Recluta Devi pensare a salvarti Sì ma stai calmo però eh Verrei con te ma ti rallenterei Ora Prendi questo Non posso prendere Zitto Wow Non fare il mio errore Se incontri uno di quei cosi Con la divisa o meno Tu non esitare O li ammazzi O scappi Chiaro Va bene Magari non scappare Leon Hai visto che non è che Abbia fatto molto bene Comunque è stato molto bello Prendi questo No non posso Prendilo Ok Coltello da combattimento Attenzione Equipaggio dalla schermata dell'inventario Il suo utilizzo è limitato Ed è rappresentato dalla barra sotto la relativa icona Quindi con L1 Ok Ma praticamente i comandi sono gli stessi di Resident Evil 4 Se non mi ricordo male Strano A me per una volta il primo che muore non è quello di colore Beh però mi sembra che l'abbiano morso a quello di colore Sì ma l'obiettivo non lo vedo Leon Mannaggia Vediamo Qual è l'obiettivo Zone esplorata In esplorazione E Ok Non siamo messi benissimo ma neanche malissimo Credo Questo è il taccuino Ah questa è la lettera tra l'altro Che ha ricevuto Leon Ti devo mettere in riga Vai via Ok Agente Leon S. Kennedy Congratulazioni da parte di tutto l'RPD Per aver completato l'addestramento Alla luce dei suoi sorprendenti risultati conseguiti Siamo più che lieti che lei sia entrato a far parte del nostro corpo Peccato che non lo sapranno mai Allora Quindi noi qua che abbiamo Scatola dei fusibili Scatola sigillata Statua della Dea Quindi abbiamo già visto Tutte le zone Dove potevamo andare Credo Hmm Ma devi prendere i medaglioni necessari E Leon Troveremo qualcosa per curarti Non preoccuparti Niente Qua Non si passa Leon Leon sta già messo malissimo Mi spiace per lui Aha Quindi dove c'è lo scotch? Sali le scale Saliamo le scale Vediamo che troviamo Già si tiene il fianco però Povero Leon Ah è questa la statua Del leone Vediamo eh Allora la nota Dove cazzo stava? Eccola qua Tacquino della gente Ah è questa la statua del leone Ma non si riesce a capire un cazzo Come direbbe Il buon Germano Mosconi Non ho idea Quello a destra Sembra un No ragazzi Non ho idea Non è così che immaginavo Il mio primo giorno Eh Tu Leon E' la sfiga andata a braccetto Un po' si Direi che Ah forse sono questi? No non credo Perché sono Cinco Sei frecce Qua ci servono tre Mannaggia Allora è l'altra pagina Ok Allora c'è un leone Che tiene Una pecora Aspetta Vediamo Cosa c'è Ah ecco Vedi c'è una lira Allora Allora c'è uno scorpione Una corona Ok Un leone Dovrebbe esserci una pecora Da qualche parte Medaglione del leone Grazie mille Grazie mille Ok Ah Quindi c'è un'altra statua Da qualche parte Dove posso recuperare Un altro medaglione Immagino Metodo scientifico Spariamo a cazzo Ecco Berserk ha già Capito tutto Ora hai capito Come usare? Sono tre in tutto Eh Benissimo E io in mezz'ora Dovrei riuscire a trovarli Per uscire da questo inferno Dubito fortemente Che ce la faremo Ma Proviamoci E dai Cazzo Salve Aristotele Spero che si veda Discretamente Ragazzi In mezz'ora Potresti uscire Se conosci un po' I posti E non cincischi Eh Ho già cincischiato Tanto Bloody Altro che Ma ad uscire Non penso Noi ci proveremo Lo stesso Ah Qua serve Un'altra chiave Qua ci sono Dei proiettili Yes Comunque Gli zombie Vanno giù Con tanti colpi Cioè io pensavo Un paio di colpi Alla testa E poi fai il calcio Alla Jack Norris Che ha sempre fatto In Resident Evil 4 E invece no Qua te li devi fare Come si deve Diciamo Che facci in cischia Sta sprecando Un sacco di secondi Eh Mi spiace Xanx Uh Proiettili Miei Dai Riempiamoci di proiettili Che ci serviranno Salve Adolf Ma che è una pianta Di rosmarino Questa Eh mi serviva Per condire il pollo In effetti Ma questa è la pianta L'erba verde Ma dai Ma sembra La loro Cos'è il rosmarino Che coltivo sul balcone Di casa Usala subito Aspetta Non ci sono anche Quella gialla e rossa Come nel 4 Qua c'è tanto sangue Non promette bene Magari Automaticamente Impostato Ad una difficoltà alta Non lo so Yama Eh di essere Non mi ha chiesto Difficoltà Non mi ha chiesto Nulla Non mi ha chiesto Qua c'è una Manichetta Ok Allora la map Ah ok Di qua non abbiamo Esplorato nulla Giustamente Come se lo magna Tutto il vaso Se lo fuma Giusto Bear Possibile Atterraggio tra 5 minuti Atterraggio tra 5 minuti C'è un elicottero Che sta per Oh E come ci sei finito Là Ok Facciamo finta di niente Merda E quei segni E Attento alle finestre Oh Shiat Hello Oh ecco una finestra Stiamoci molto attenti Perché ho come l'impressione Che Ci sarà un jumpscare Molto 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 presto Ragazzi scusate poi Se non vi leggo Quanto vorrei Ma Porca Eva Non ce li ho Spiccioli Se ne va di Che cos'è questa immagine Che cos'è questa immagine Inquietantissima Questa diventerà la La L'anteprima Del video La tipa che sa la Va Va bene Magari si scopre Che è solo rimasta Chiusa fuori E che cosa posso usare Qua Posso Dargli un colpo Di pistola In testa Con sopra scritto Hello Ma può entrare Ma che fai Entra o non entra Cincischia Credo che possiamo Lasciarla qua Ragazzi Sono abbastanza sicuro Che possiamo Lasciarla qua Pure io non mi ricordo Perché Porca puttana Che spavente Ma che merda Lì Ho ne hai fatto bene Ancora Ma quanti Dio mio Che inquietudine E cadi Quattro Quattro dritti Nella testa Ce ne sono voluti Vorrei farvi notare Questo Ma non mi dire Ma com'è possibile Muori Porca miseria Se Questo fanno sette Sono sette Maledetti Proiettili Cosa abbiamo Qua Weapon Locker Keycard Ah Per L'armeria Praticamente Vale Vuole una cena Romantica Falle Entrare Lo zombie Definitivo Cioè Ragazzi Io non mi ricordo Perché sono diventati Zombie Allora Yama Se non ricordo Male Prendi Se non ricordo male Sono diventati zombie Perché qualcuno Ha rilasciato Il virus Di cui si parla In Resident Evil 1 Il T Se non ricordo male 25 settembre Stiamo convertendo la centrale In un rifugio temporaneo A causa della violenza In città È stato ordinato A tutto il personale Di dare priorità assoluta Alla sicurezza dei cittadini Mentre cerchiamo di accogliere Quanti più civili possibili 25 settembre Addendum Nel cuore della notte Siamo stati attaccati Da uno dei rifugiati Ha ucciso un agente E ferito altri tre Il soggetto è stato subito bloccato Crediamo si sia trattato Di un grave episodio Di crisi di nervi Dovuto al forte stress E invece 26 settembre Un ordo ha saltato la centrale Provocando numerose vittime Alcuni di noi sono riusciti A rifugiarsi Oltre le serande di emergenza Ma siamo circondati E sarà difficile fuggire Non so se riusciremo A riparare gli strumenti Di comunicazione Per ora siamo isolati dal mondo 27 settembre Intorno alle ore 13 Si è verificato Un altro violento scontro Nell'area ovest della centrale 12 persone sono morte E rimane solo un piccolo gruppo Di sopravvissuti La situazione sta precipitando David Ford Ah nel frattempo c'è C'è Berserk Che ha fatto una clip La clip della signora Che sta là fuori Che rimane immobile Quando vai a controllare Come mai Grazie Exanxus Ha fatto un'altra clip Sei sicuro vale? Ah giustamente quella dove Spacca tutto quanto Praticamente Tra l'altro sono saltato Da quella parte Perché l'audio Binaurale Ti porta I suoni Dal punto in cui Dovrebbero arrivare Rispetto alla visuale Allora Cosa abbiamo qua? Mappa centrale di polizia Primo piano Oh perfetto Perfetto C'è qualcos'altro Ah Di là forse si può andare No eh Basta Ancora Ma di che cosa ho bisogno? Forse coltellino? Guarda come si mette No Mi sa di no Vabbè Leon Ci abbiamo provato Andiamo a vedere Uh Si può allora Non badi a me Sono solo di passaggio io Ma ce l'ha con la macchinetta del caffè Che non ti ha dato il resto? Eh lo so È odioso quando succede Mannaggia Quando succede a me Faccio lo stesso Mi metto la Andiamone zitti zitti Quatti quatti Allora Il west Ufficio alla ovest Potremmo andare a controllarlo? C'è anche la camera oscura Da questa parte Ma mi sa che è l'armeria questa Dio si- No Usa Yes Prendi tutto Prendi tutto Leon Prendi tutto Santo cielo Santo cielo Qua Panzone Ciao panzone Oh oh Mi sa che ce n'è pure un'altra dietro Piaciuto? Oh Qua c'è qualcosa Ma quanti siete? Leon sa dire solo merda Tra l'altro Basta Porca troia Basta Leon Basta Queste brutte parole Non ci credo Cosa Cosa c'è qua? Assi di legno? Ma è Giacomo Eh sì Jack È Giacomino Mi sa che posso Leon? Come grazie per aver giocato Ma Chiedo Chiedo scusa Sono un po' Deluso Anche a leggere Anche a leggere Devo fare Non devo leggere Praticamente Che cosa è successo Non mi posso godere La demo Devo andare avanti Eh stica Eh sì Yama Eh sì Parole presenti Parole presenti Nel vocabolario Di Leon Merda E porca troia Che poi Non ha motivo Di dirlo Perché non è Che ti hanno colpito Oh Ada Claire Sherry Sì I doppiatori Sono diversi E inoltre Ah c'è anche lui Quello che c'era Nei mercenari Del 4 Eh Cosa ho appena visto Accedere alla pagina Del prodotto Per acquistare Il gioco Direi proprio Di no Eh E ora Che si può fare Volendo Comunque Vale Metti poi Il doppiaggio In inglese Si gode meglio Volendo potremmo fare Un'altra run Potremmo vedere Fin dove riusciamo Ad arrivare Senza Perdere Troppo tempo Proviamo anche La lingua Tedesca Norve Meglio di no Inglese La modalità Tofu Che cos'è Ber Comunque io vorrei Fare una seconda run Ma perché mi dice Zero zero No Non mi dire Che non posso più Perché è scaduto Il tempo Si può fare Quante run Vuoi Mi sa Eh ma in alto C'è zero Ma dai Ma Veramente Sono molto Incazzato Sono molto Molto Incazzato Ma da Mi prendete Per il culo Ma non sono riuscito A fare nulla Di quello Che volevo fare Cioè non so neanche Cosa volevo fare Ma volevo almeno Provare ad andare avanti Per fuggire E invece niente Mi hanno preso Per il culo Perché Io mi domando E dico Una demo Di 7 giga Piuttosto Mettimela A tempo Nel senso Che dopo Che raggiungi Un determinato Punto Della storia Non vai Più avanti Ma non farmi Così Io ci rimango Molto male Io ci rimango Veramente male Non si fa In pratica Modalità meme Sì Sì Beh Sì Comunque Impressioni Vale Allora Ho giocato Per mezz'ora Però alla fine Ho cazzeggiato Per 20 minuti E Allora Carino Molto inquietante Il fatto che sia Tutto Buio Molto cupo Molto creepy Hanno ripreso L'atmosfera Dei primi Resident Evil E l'hanno Migliorata Con il gameplay Diciamo Di quelli nuovi Specialmente Il 4 Mi ricorda Veramente molto Resident Evil 4 E non solo Per il protagonista E Bello Però vorrei Vorrei provare Di più Vorrei provare Perché 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 alla fine Non ho Non ho risolto Granché di puzzle Non ho ucciso Granché di gente Bene Adesso Yakuza Ma mi sa che Devo Devo addirittura Scaricarlo Yakuza Cioè Ce l'ho nella libreria Mi sembra Jack Però non l'ho scaricato Per non avere Il peso Sulla memoria Prova a disinstallare E reinstallare O a cancellare I dati di salvataggio E Ma se cancelli I dati di salvataggio Lo devi Riscaricare E se ne vanno Altre tre ore Quindi Direi di no Sì lo so Che stai scherzando Jack Non ti preoccupare Eh Eh Oppure come dice Xanx Riavvia Eh ma mi sa Che non funziona Il trucco Sapete che vi dico Visto che ci siamo Diamo un'occhiata Resident Evil 2 Demo Release Vediamo Allora Uscita la demo Limitata Vediamo cosa dicono Qua Sulla demo Limitata La versione di prova Rimarrà online Solamente fino al 31 gennaio E va benissimo Dion deve sopravvivere Con un intero edificio Pieno di creature Carnivore Inagguate Il protagonista Dove trovare Una via di fuga Entro il tempo Limite Ok I giocatori Si uniscono Blah blah La versione Definitiva Esce il 25 Di gennaio Riuscendo a terminare L'incarico Nel tempo Richiesto Sarà comunque Possibile Continuare a fruire I contenuti Per il periodo Rimanente Che vuol dire? Tra l'altro C'è una persona Che fa una domanda E dice Cosa vuol dire? Che se non completo La demo Nel tempo previsto Magari perché Mi fermo ad ammirare Il gioco Non posso più Giocarci? Vediamo le risposte Che hanno dato Completando la demo Avrai l'accesso Ad un filmato Che potrai Visionare sempre Anche dopo La scadenza Dei 30 minuti Che culo eh? Mentre invece Scaduta la mezz'ora Non sarà più possibile In nessun caso Giocare la demo Con il personaggio E un omaggio Alla demo Di Red 2 originale Anch'essa a tempo Ah Ecco perché Esatto Proprio come fu Per la demo Originale del gioco Hai 30 minuti Per provare Red 2 In qualsiasi modo Tu decida di approcciare La demo Questa sarà fruibile Per soli 30 minuti Ok No non si può Ricominciare Ma pazienza Così non ci anticipano Troppe novità Predator Sagat Ma vaffanculo Ma che cazzo dici Coglione Ecco E diciamo le cose Come stanno Sono un postrunz Yama Sono un bel Il postrunz Raga vedete Su discord Se me lo permette Faccio io stream Il 15 Mi arriva La nuova connessione Oh Sono contento Per te Jack Bravissimo Bravissimo Ho sempre voluto Un filmato Ho sempre voluto Avere un filmato Perché Chi è che non si scarica Questa demo Di 7 Santi Giga Per avere Un filmato Se riesci In mezz'ora Ad evitare Di leggere Di guardare Di perderti Di tutto Devi essere una macchina Paraocchi Vai Verso l'uscita È una presa Per il culo Sì lo è Xanxus Sì lo è Ora Parliamo di cose serie Parliamo di cose serie Non No Vaffanculo a te E a find out more Non mi interessa No No Io ho sentito Per 30 minuti Leon dire Sempre solo Merda E porca troia No Mi rifiuto Bisognerebbe entrare Con un altro account Hackeriamo il sistema Sì però Un po' da stronzi Ragazzi eh È veramente Un po' da stronzi Qua c'è la modalità Tofu Di cui parlava Berserk Dove ti one shot Praticamente Hacking to the PSN Ma perché parla in Giappolo? Vabbè Ada sempre vestita Benissimo E beh certo Non la voglio comprare Sto maledetto gioco Ok Veniamo alle cose serie Cari ragazzi Adesso Abbiamo Due possibilità Anzi tre Effettivamente O terminiamo qua La live di oggi E quindi Perdonatemi se è stata molto breve Ma non è colpa mia O Rimaniamo con questa bellissima visuale Nel frattempo Chiacchieriamo tra di noi Oppure facciamo qualcos'altro In questa ultima ipotesi Devo decidere che cosa fare Ancora con sto Yakuza Non fare Come una persona Che odiamo tutti Jack Non ce l'ho neanche scaricato Si vale capisco che è un omaggio A Re 2 di un tempo Sta cosa a tempo Però me Appunto Me Se voglio anche lo 0 Il Kiwami 2 Allora Le ipotesi sono Di Di fisico Di giochi fisici Che ho Non so se Devo installarli Nella play Forse Non ne sono sicuro Avrei Non mi sta venendo il nome Il famoso Dragon Ball Xenoverse Ma penso che si vedrebbe di merda Che poi l'ho preso A una miseria Tanto tempo fa Poi ci sarebbe The Long Dark Che è un survival E dovrebbe avere anche una modalità Storia Interessante Jack propone Divinity Volendo Per una serie che sta portando Bear Quindi preferirei che La continuasse Lui Eventualmente Io preferisco Non fare altre Poi ci sarebbe Di digitale XCOM 2 War of the Chosen Solo che Se adesso cominciamo XCOM 2 War of the Chosen Non so Fin dove ci possiamo Spingere E soprattutto Fin dove Abbiamo Le novità Di War of the Chosen Che altro ho di digitale Che non posso andare a vedere Adesso Che cosa c'è Mi pare che ho Metal Gear 5 The Phantom Pain Però un po' pesante Diciamo Phantom Pain Quindi non so ragazzi Ditemi voi Perché non mi sta Venendo in mente Nessun altro titolo Che cosa è successo Io direi di iniziare War of the Chosen Poi dove si arriva Si arriva Le novità mi pare Sono fin da subito Eden Così ogni venerdì Facciamo quello Cioè volete fare Direttamente Io direi Clash Royale Bravo Jack Bravo Mi piace Andata Clash Royale Il filmato iniziale Cambia già Quello Addirittura Vale dobbiamo Sfogarci un po' Ma si possono portare I pg di xcom Si e no Nel senso che Volendo Tu puoi dire Ok Inseriamo i pg Che stavano prima Però te ne dà Quattro Randomici Tra quelli che hai preso E non ti salva La classe In cui li hai promossi Per esempio Tu bloody Eri Tiratore Si chiamava così Tiratore Se tu Importi Il vecchio personaggio E te lo trovi Magari fin dall'inizio Non è detto Che verrà promosso In tiratore Nonostante Tra le opzioni In cui salvi i personaggi C'è scritto Mantieni la classe La classe proviamo Finché non ci esce Eh Però sai che rottura Di cazzo Xanxus Eh C'è Kino Non tiratore Vabbè Quindi Tutti d'accordo Vogliamo provare War of the Chosen Tanto Ci passiamo queste orette Per vedere giusto Com'è Che dire Io speravo di poter giocare Un altro po' Con Resident Evil Però Oh Penso È stato breve Ma intenso Vadi Vai l'abbiamo fatto anche Su difficoltà normale Che facci Incischia Va bene ragazzi Allora Grazie mille Per avermi fatto compagnia Per averci incischiato Con me Adesso Rimanete qui Sul canale Che tra pochissimo Parte una nuova live Con War of the Chosen E speriamo bene Perché sono Estremamente Arrugginito Con XCOM Quindi Speriamo di non morire Malissimo Tutti quanti E vediamo un po' Che succede Anche perché magari Le nuove tre classi Potrebbe essere Prese da qualcuno Ah Vedi 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 Berserk A tra poco ragazzi Rimanete qua Allora Grazie a tutti